Il ragù sarebbe delle brociole, si fa con prosciutto cotto, quello crudo, salame, la ricotta, la mozzarotta, mozzarudo e carciuffo fritti. Il benedetto, arance, snara, fritta, tisi della posta. Che sono queste? Sono delle frittine fatte con le uove sbattute, poi messo dentro le uove sbattute, la ricotta e vengono tirate come una specie di uove sbattute. Che cosa ricordano? Le uove sbattute, quindi sono le dita degli apostoli. Con il ragù, con braggiole, oppure carne e peccetti con l'agnello, con le orecchiette. Oppure carne e peccetti, con braggiole, con il ragù, oppure carne e peccetti con le orecchiette. Con il ragù, con le orecchiette. Lei è stato molto chiaro, però il ragù sono la tetta. Le uove sbattute. E a pancia piena è il momento dei dolci. Vanno molto sia le pastire, le scarciere in varie, un uovo, due uova, tre uova, due uova, tre uovo, due uova. Molto particolare. Anche per delle colombe varie, con canditi, con uova, anche vuote. Discretamente anche nelle uova. È proprio la tradizione che... La gente ce lo richiede. Ma la vera scarcella barese, voi sapete come si prepara? Un chilo di farina, un chilo, quattro uovo, quattro cento grammi di zuccheri, una bustina di uovo, due, quattro cento, quattro cento, mille vaniglia. E poi che cosa si fa? Un uovo. E poi devi fare le porno che vuoi tu. Una notizia per la vicino. La notizia per la vicina.